Stagionalità, differenziazione tra centro e periferia, autorizzazioni concesse solo alle attività di somministrazione assistita, che tradotto significa ai locali muniti di servizi igienici. Sono questi tre i punti cardine del nuovo piano, sedi e tavolini che l'amministrazione comunale di Firenze porterà in consiglio per l'approvazione entro fine gennaio. Un primo assaggio del piano comunque lo si avrà già i primi giorni del 2022, perché la proroga al 31 marzo dell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico approvata recentemente dal governo non sarà automatica, quindi tutte le attività che fino al 31 dicembre beneficiano della gratuità della tassa, a Firenze sono 1.500, a partire dal prossimo anno dovranno rappresentare la candidatura sulla base delle nuove regole e la bozza è stata già presentata alle associazioni di categoria, oltre che al coordinamento dei comitati del centro storico, dall'assessore allo sviluppo economico Federico Gianassi, che ha trovato l'appoggio delle prime e la disponibilità al confronto dei residenti. Ma a pensarla diversamente tiene Italia il sindacato del mondo delle imprese ricettive e della ristorazione. Assolutamente contrari e assolutamente delusi dal comune, abbiamo avuto un appuntamento circa due mesi e mezzo fa, eravamo rimasti che ci vedevamo presentando il nostro progetto e non ci hanno convocato e in questo momento tragico per il nostro settore dell'Oreca è la cosa più brutta che poteva fare il nostro comune. L'intenzione di Palazzo Vecchio è dunque quella di lavorare per la normalizzazione della situazione riducendo significativamente il numero di autorizzazioni, ma non solo, il provvedimento contempla anche un paragrafo dedicato ai marciapiedi. I tavolini qui non dovranno impedire il passaggio dei pedoni ma avere un'area libera di almeno un metro e mezzo. Io sono molto combattuto, sono onesto perché appunto non voglio contrastare la ripresa economica è una categoria che ha sofferto tanto, quella appunto dei ristoratori per esempio durante la pandemia. Dall'altro lato però penso anche che rivedere per il 50% per esempio la presenza dei tavolini non basta. Un'eterna contesa, un tiro alla fune tra residenti ed esercenti col comune nel ruolo di intercessore, una lotta tra interessi apparentemente non conciliabili che però in qualche modo dovranno convergere verso una soluzione compromissoria per imparare a convivere ovviamente sempre che ci sia l'intenzione di collaborare. Con un Gianassi, devo dire solitamente sempre stavo disponibile, questa volta non riusciamo a contattarlo e siamo nel panico perché ci abbiamo disdette dalla mattina alla sera per il cenone di Natale, il cenone di Capodanno e il nostro comune che dovrebbe aiutarci questa cosa non doveva farla.